Perché il carnevale peschiera? Perché è una tradizione che c'è dagli anni infiniti. Noi l'abbiamo ripreso, l'abbiamo migliorato e lo faremo sempre più bello, sempre più importante e perché i bambini si devono divertire. Come abbiamo visto ci sono i nostri bambini, le nostre bandi, i nostri adulti, tutte le generazioni che si divertono. Grazie! Un bel vaccino! Carnevale di peschiera e il sogno diventa realtà. Cos'è per te il carnevale? Il carnevale è allegria ma anche promozione turistica per il lago di Calder. Non c'è! E' il carnevale di caldera. Non c'è il carnevale di calderale. Oggi ci sono le stronti di caldera. E' il carnevale di caldera. Non c'è bene! Non c'è bene, non c'è bene! Chai l'escrizione e scriviti al corso del genere. Non c'è più? Non c'è bene. Non c'è bene! Non c'è bene! Sostremmo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.